Insegnarti dove sono, insegnarti dove sono, insegnarti dove sono, insegnarti dove sono. Mi spiega, tu lo devo solo insegnare, che si hanno appiato le loro stipendi a loro proposta. Non scurre le paure non ne ha, 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 a scenderti dove sono, insegnarti dove sono, insegnarti dove sono, insegnarti dove sono. La manifestazione è una, due, tre! Ma l'abbiamo servito, cosa? Applausi! Scendi piazza a manifestare, o prodore non stare a guardare! Scendi piazza a manifestare, o prodore non stare a guardare! a guardare, scendi in piatta, vai in testare, no proprio, scelta in piatta, scelta in piatta. Ragazzi, adesso qui è la vostra manifestazione, tutti in piatta, qui, ci seguiamo. Allora, seguiamo avanti, perché le altre due cose, la prima è finita, la seconda è che anche la polizia ci ha fatti i complimenti, perciò siamo stati in piatta. A noi, complimenti dalla polizia, non li vogliamo, non li vogliamo.